finalmente dopo sempre qualche anno arriva il 31 dicembre in piazza quindi il 31 dicembre ci sarà un pre live dalle 23 con un gruppo quindi di intrattenimento e subito dopo un dj set ovviamente con artisti nostri locali valorizziamo sempre i nostri artisti che ci si protrarrà ovviamente nei limiti della possibilità e comunque dei limiti di orario insomma